salve a tutti sim sul mio canale sono marichelle bentornati in the sims 4 let's play ma come sapete è un let's play speciale perché come vi ho già anticipato i nostri sim se ne andranno a vivere in città ebbene sì questa casa non andrà sprecata assolutamente perché la faremo utilizzare qualche altro sim assolutamente quindi la rivedremo e poi era anche per fare l'house building che l'avevo creata quindi ne valsa la pena ma i nostri sim hanno deciso di trasferirsi ve l'avevo già anticipato e quindi ora lo facciamo subito vendiamo la casa quindi trasferiamo l'unità familiare facciamoli partire così alla buona proprio alla buona vestiti così avanti vai ok ragazzi possiamo permetterci quartiere della moda possiamo trasferirci in questo appartamentino un po piccolino ma lo arrederemo le finestre generose di questo appartamento pittoresco equivalgono a dei posti in prima fila per guardare gli abitanti della città dall'esterno lo spazio rappresenta la residenza ideale per un gruppetto di coinquilini che abbia necessità di accedere facilmente al centro della città trafficata benissimo andiamo tieni mobili vendiamo mobili ok ragazzi eccoci qui finalmente con i nostri sim del let's play sono proprio contenta abbiamo un appartamentino piccolino piccolino il bimbo dove ci hanno messo qui qui mettiamo la culla ovviamente mettiamola subito ed eccoci qui ovviamente dovrò arredare tutte le stanze però non vedo l'ora onestamente così avremo modo di vedere anche un po la modalità costruisci allora calmalo inutilo magari allattalo e tu vediamo che casina piccola cosa potresti fare hai fame quindi prepara da mangiare vediamo se in frigo c'è qualcosa apri non c'è nulla direi sarà di colazione ma c'è di frutta uova strapazzate con pancetta vai buono buono veramente molto buono tra poco il nostro bimbo cresce quindi si manca poco al compleanno di thomas quindi potremmo anche fargli la festa di compleanno per questo non gli arredo subito la camera da bambino intanto potremmo vedere magari i tratti della casa allora vicini vivaci i vicini vivono al massimo cioè spesso in una festa in corso ragazzi siamo messi malissimo potremmo mettere qualche tratto aura romantica l'aura romantica rende più facile che le altre persone si lasciano sedurre dall'amore accidenti gioco da ragazzi qui i bimbi sembrano imparare più in fretta magari questo visto che avremo un bel bimbo maledetto sembra in questo appartamento molte cose vadano storte magari anche no sporco ok abbiamo messo vicini vivaci gioco da ragazzi aura romantica insomma dei bei tratti dei bei tratti tra l'altro è quasi il compleanno anche di la nostra Elisa e vi avete detto di farle fare un figlio prima che compisse gli anni ma alla fin fine può farlo anche da adulta quindi non c'è problema semmai dovrei controllare se l'ho messo la vita corta o lunga in effetti manca un giorno a lui quanto manca invece per la vecchiaia 13 giorni vediamo se la vita è impostata su corta o su lunga no è proprio su normale quindi la teniamo così ragazzi allora tu vieni qui e prendi una porzione da brava complimenti complimenti avete una nuova casetta decisamente meno bella dell'altra ma io volevo assolutamente farli vivere in appartamento quindi c'è poco da fare tu smetti di mangiare un attimo e vai a cambiare tuo figlio io direi che a sto punto gli facciamo una festa tanto arriveranno i vicini a festeggiarci quindi facciamo culla ok benissimo e direi mangia e magari potremmo invitare proprio qualche vicino non si sa mai chi abbiamo qui chi di chiacchierare uh abbiamo il turno del nostro eh però non vorrei seguirlo del nostro Mattia non partecipiamo per questa volta giusto giusto perché voglio esplorare più vitricità e quindi magari per questa volta lo facciamo andare da solo la prossima volta lo seguiamo dai vai lo so che hai sonno avrebbe molto molto sonno però pazienza lava anche i piatti pur di non andare a lavoro Mattia dai dai lei invece come lavoro a medico però voglio vedere se può fare un lavoro in concomitanza quindi tu lavora a sodo perché ho letto qualcosa al riguardo magari è una cosa non vera ma controlliamo che fame no controlliamo questa cosa magari proviamo la carriera politica sì proviamo ha due rami di carriera politico e eventi di beneficenza vediamo un po' no dovrebbe però cambiare il lavoro quindi non può fare le due cose ditemi voi nei commenti se volete che a qualcuno di loro faccia cambiare il lavoro per questi nuovi appunto lavori da sperimentare secondo me ne vale la pena intanto io direi preparo una torta cucina e facciamo una torta al cioccolato ragazzi al cioccolato torta al cioccolato dolce un po' oh abbiamo una vicina qui buongiorno salve salve non faccia rumore mi raccomando non faccia feste notturne di giorno comitato di benvenuto lo sapevo che stavano arrivando sapevo me lo sentivo e visto che c'è il comitato di benvenuto io direi approfittiamo per far crescere il figliuolo allora presentazione amichevole amichevole vai vai fai un pisolino o no anche se hai sonno ha un sonno da morire altro che un pochino di sonno ha proprio sonno sonno ragazzi proprio che dormirebbe come se oggi fossero domani ciao ciao cara allora facciamo passare d'età è ora avanti oh è cresciuto Thomas è passato di età allora birbanzo turbolento e vegetariano che è il nuovo tratto questi vanno benissimo fantastico non c'era il padre ma fa niente anzi sono curiosa di vedere come reagirà il padre a tutto questo intanto invitiamo i vicini a entrare sì invitiamo i vicini ma buongiorno venite dentro e mangiate tutti assieme quindi possiamo chiamare a tavola col bambino no prendi un pezzo però tu vai al bagno che casetta piccolina ragazzi siamo finiti in una casetta piccola ed era anche quella tra l'altro che costava un pochino di più rispetto alle altre devo dire alcune non potevamo permettercene ma era un po' meglio di altre diciamo facciamo chiamo a tavola chiamali tutti a tavola assolutamente sì e poi voglio controllare la modalità costruisci o meglio la modalità compra perché dovrebbero esserci videogiochi e cose così che possiamo comprare e sicuramente possiamo migliorare moltissimo la casa questa qui potremmo metterla via perché è una schifezza che ci portano sempre i vicini ma non piace mai a nessuno ma veramente mai a nessuno vediamo il nostro bambino com'è no bisogna cambiare gli outfit parliamo un po' con loro però allora ringraziamo per la presenza piacere ringrazio per la presenza sono curiosa di vedere come sono i nuovi vicini vediamo anche la vista com'è bellissimo ragazzi da qui vediamo veramente tutto le fiere tutto il cibo vegetariano è un successo i sapori la consistenza ogni aspetto è straordinario questo piatto riscuota senza dubbio l'approvazione di Thomas giusto perché è vegetariano benissimo infatti deve avere qualche esatto provato ai vegetariani è un'accettabile cucina vegetariana di sicuro nessuno sentirà male beh è cioccolato mio caro è cioccolato quindi per forza per forza ma lei è stanchissima puzza guardate come è messa è messa malissimo io ne ho fatto trasferire di notte così a caso ragazzi a caso solo noi possiamo fare una cosa del genere solo nelle nostre serie possiamo essere così sbadati mannaggia sta dormendo per terra bimbo fai l'uomo di casa e parla con tutti tua madre sta male rallegra lui già ci odia così a prescindere no a prescindere scortese no cortese cortese a caso divertente salutiamo la nuova vicina molto piacere mia madre è collassata a letto fa nulla potremo vedere se c'è appunto il videogioco il videogioco di cui tanto si è parlato intanto guardate qui quanti oggetti nuovi abbiamo ragazzi dovremmo vederli tutti magari farò anche un video a parte non lo so ma sono tantissimi sono veramente tantissimi man mano nel corso del gioco comunque li vedremo e abbiamo tre tipi di console anzi no due più un nuovo televisore console per videogiochi goldiebox e console per videogiochi eterobox prendiamo quella meno costosa comunque e la mettiamo qui assolutamente si ah ma c'è già aspettate un attimo c'è già non avevo capito che era una console proviamola proviamo un po' gioco una partita una partita online una partita multigiocatore di feste con con lui va bene gioca con lui non puoi giocare con altri ok giocate ragazzi vediamo un po' abbiamo proprio una tv proprio brutta ma brutta però non c'è nemmeno spazio proprio per passare qui ma veramente è un po' più piccola questa casa no e qui abbiamo mattia che deve essere stanco morto esattamente vai a letto con tua moglie vai a dormire pazienza per i vicini un piacere grazie e poi controllerei i festival quindi la bacheca dov'è la bacheca la bacheca leggi messa ah c'è un messaggio anche accidenti andrai a leggerlo leggiamo il messaggio cosa dicono puoi arrivare a fine giornata lo so così lascia un messaggio assertivo quindi è un messaggio di incoraggiamento che ci ha lasciato benissimo vai a dormire lasciamo anche noi dei messaggi così a caso e lei è felice perché ha lasciato un messaggio affermazione in attesa uh che bella cosa ha detto quella persona sulla bacheca è stato un caso eh sì perché ci hanno visto stanchi ragazzi ci hanno visto stanchi lui è felice per i videogiochi gesta da festa bella partita Thomas non ha vinto ma si rifarà la prossima volta e io direi ragazzi andiamo a cambiare abito a tutti quanti andiamo subito ok ragazzi siamo in modalità crea un sim vediamo di cambiare il nostro bambino in realtà per i bambini non c'era quasi nulla quindi scegliamo veramente cose normali ok ragazzi ecco il nostro bambino modificato l'ho vestito così molto tranquillo anche da vita di città direi questi sono gli abiti quotidiani formali sportivi da notte da festa e da bagno adesso direi di cambiare anche gli altri cambiamo Elisa e nel cambiare Elisa vi voglio far vedere un po' di abiti che non vi ho mostrato nella scorsa puntata ecco qui ragazzi non vi ho mostrato questi abiti interi mi ero proprio dimenticata direi di utilizzarli abbiamo questo 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 qui questo qui questo qui che bello questo qui questo qui questo qui eccolo qua un altro un altro ancora quanti ragazzi guardate qui questo questo bellissima questo questo e ovviamente abbiamo il procione il mitico grandissimo procione la vestiamo così con gli abiti quotidiani abbiamo questo questo da superwoman ragazzi e questo questo non c'entra niente va bene ora la vesto e poi la vedete ciao Grazie a tutti. Ok ragazzi ho modificato la nostra sim, anzi tutti i nostri sim, a lei ho messo questo outfit, con questa pettinatura volevo quasi quasi metterle questa, poi alla fine ho detto però è troppo da straniera diciamo e quindi ho optato per questa, però ditemi se volete che le cambi pettinatura, non sono del tutto convinta. Così in abiti quotidiani, così formali, sportivi, da notte, da festa e da bagno, non l'ho cambiata molto, solo gli abiti quotidiani ho cambiato di più. E Mattia in abiti quotidiani l'ho messo così, non ho cambiato nient'altro di Mattia. Benissimo, io direi di tornare in gioco. E rieccoci in gioco ragazzi, loro sono ancora morti di sonno, assolutamente sì, e direi non lo so se rifare già la casa, io aspetterei i vostri commenti, magari mettiamo un letto però al nostro piccolino. E mettiamo ragazzi il letto nuovo, ecco qui, allora, sceglierei un colore più così, magari, e intanto potrebbe anche andare, magari scegliamo un giocattolo. Bolle di sapone, bellissimo. Ragazzi, sono contentissima, mi sono resa conto che abbiamo anche le bolle di sapone, dobbiamo provarle. Soffia bolle, vai. Prova le bolle. E poi le facciamo adorbire tutti, perché sono stanchissimi. Bravo, soffia le bolle, che bello. Vediamo un po' si diverte. Sì, si sta divertendo parecchio, non ha nessun stato umorale, mi sembra. Gli ho messo anche questo letto, appunto, che è di vita di città. Qui alla vicina arrivano le bollette, è molto bello vederli così, vedere tutti i vicini, non lo so, molto molto bello. E intanto Elisa si è svegliata e deve farsi la doccia. Vi ricordo che anche lei deve passare di età. Quindi andiamo, oppala. Magari potremmo già farle provare ad avere una bambina, però siamo in un appartamentino piccolo piccolo. Visto che volete che rimanga giovane adulta ancora per un po', per frizzare il tempo, l'ideale sarebbe appunto farla restare incinta. Quindi perché non provare? Quasi quasi. Certo, l'appartamentino è piccolo, siamo appena trasferiti, ma la sfida giustamente è questa. La sfida è farli vivere così, un po' allo sbaraglio. Cerca di avere un figlio? Assolutamente sì. Quasi quasi sì, ragazzi. Vai. Perché no? Perché no? Allora? Eh? Mmm. Sentono puzza, ragazzi, in questa casa. Ma vabbè. Dettagli? No, un figlio. Ehi, cerca di avere un figlio. Se la fate? No, non se la fanno. Fai fichi fichi, riesci a farlo? Sì, fichi fichi sì e il figlio no. Vi odio. Tanto. Fanno fichi fichi e non fanno il figlio. Non ci posso credere. Non ci posso proprio credere, ragazzi. Ah. Che cosa brutta. E' hanno già finito anche. Vabbè, vai a lavarti. Vai, corri. Uh. Qualcuno sta facendo qualcosa qui. Altro che noi. Altro che noi. Possiamo bussare? Stanno... Facendo fichi fichi, ragazzi. Batti sulla porta. No, bussa gentilmente. Prima bussiamo gentilmente, ragazzi. Bussa gentilmente. Non ci sentono. Vediamo l'è arrabbiata. Vicini rumorosi. Eh, fanno quello che non riusciamo a fare noi, ragazzi. Vicini rumorosi. Il fracasso proveniente dall'appartamento dei vicini è tale da espirare solo insonnia e rabbia per situazione del vicino sul pavimento dell'appartamento. Eh, sì. Guardate tutti questi cuori. Bellissimo. Battiamo sulla porta, visto che non rispondono. Non sentono. Sembra che nessuno all'interno ti abbia sentito. Oh. Adesso ce l'ho sentito sì? Ce l'ho sentito? Penso di sì. Penso proprio di sì. Esce qualcuno? Scusi, eh, signorina. Ma... Cosa? Ma come? Lamentati furintemente del rumore. No, adula. Lascia stare. La sta adulando. No, ho sbagliato. Lamentati. Lamentati subito. Oh. Scusi, signorina. Ecco. Sono dei vicini di casa molto vicini. Mi dispiace. Hai ragione. È stato un comportamento irrispettoso. Proveremo a fare meno rumore. Grazie di averci avvisati. È così che si comportano i bravi vicini? È certo. Leggiamo un messaggio. C'è anche un messaggio qui? Un altro messaggio in bacheca, ragazzi. Cosa dice? Devi avere più fiducia in te. Probabilmente la cavi meglio di quanto credi. Fantastico. Quindi i messaggi assertivi. Loro, soltanto, sono già amiche, nonostante tutto. E lui è stanco. No, anzi. Ha solo fame. Direi di andare da qualche parte. Non vedo festival in corso. Ma direi di andare da qualche parte. Che ore sono? Sono le 11. Ma noi non importa. Andiamo. Oh, e siamo al karaoke, ragazzi. Cara Pop. Con tutti quanti i nostri amici. Quindi non solo noi. Lui ha una fame da lupi. Magari ordiniamo qualcosa al bar. Ordina del cibo. Ciotto di olive. No. Piatto di portata carne e fornoaggio. Anche per il bambino. Poverino, veramente. Leo, sono da morire. Ma io direi che potresti cantare. Guarda karaoke. Guardate karaoke insieme. Tutti quanti insieme. Allora, bravo. Tu mangia. Mangia qualcosa anche tu, magari. Prendi una porzione. Assolutamente sì. Vediamo un po'. Stanno scatenando. Guardate quei cellulari. Così. Bellissimo. Allora. Possiamo fare qualcosa? Non lo so. Romantico, amichevole. Guardate loro. Con i cellulari alzati. Bellissimo. E intanto cosa sta facendo Clu? Sta parlando col water, credo. Credo proprio di sì. Ma noi adesso chiamiamo a noi Cristina e chiediamo di fare una bella foto. Che ne dite? Uh, ecco qua in bagno con Cristina. Il posto più giusto per i selfie. Avanti. Fantastico. Benissimo. Benissimo. Abbiamo fatto un selfie. Che è una cosa molto importante. Uh. E qui sta cantando Clu. Vediamo come se la cava. o meglio, io la chiamo Clu, però in realtà è Valeria, però va bene, dettagli. Per me rimarrà Clu. Ma non mi sembra che abbiano una bella voce. È tutto chiuso naturalmente, perché a una certa ora chiudono tutti. Puoi cantare tu? Canta in duetto. Country. No, no, signora. Ma guardate questa. Ma per davvero? Ma no, ma... E canta bene pure. Bene, io direi che possiamo tornare a casa tutti quanti. Salutiamo tutti i nostri amici. Ciao, 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 amici. Andiamocene via. Casa, casa, casa. Via, 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 via. Stiamo malissimo, stiamo malissimo. Andiamo a dormire. Ok, ragazzi, eccoci a casa. Possiamo anche chiudere la puntata, assolutamente. Lui a dormire. Perché in questa puntata abbiamo fatto tantissime cose. Abbiamo cambiato casa. Il nostro bambino è passato di dettagli. Abbiamo cambiato abiti. E quindi direi che per questa puntata noi ci possiamo fermare qua. Mettete un bel like se il video vi è piaciuto. Lasciate un commento. Iscrivetevi al canale e anche al canale di Facebook che vi lascio in descrizione. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!